Sarà aperto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, a partire da venerdì 14 giugno, per il giorno del debutto si inizia alle ore 8. È il CAO, centro di assistenza e urgenza, che apre al piano terra del blocco A del presidio ospedaliero a Fiorenzuola, insomma dove una volta c'era il pronto soccorso, rimpiazzato già da tre anni dal punto di primo intervento. Cosa cambia con il CAO? Intanto l'orario non più 12 ore, ma 24, non saranno richiesti ticket sanitari. I casi trattati, codici bianchi e verdi, quindi non gravi. Tutti gli altri vengono centralizzati su Piacenza, dove rimane l'unico pronto soccorso. Al CAO di Fiorenzuola, come per quelli già aperti a Piacenza, Bobbio e Podenzano, si accede recandosi di persona. Ci sarà un numero, per vedere l'ordine di arrivo, e una sala d'accoglienza dove un infermiere darà una prima valutazione. Attenzione! A Fiorenzuola continuano a funzionare le ambulanze, quindi in caso di sintomi importanti, come dolore toracico, politraumi, insufficienza respiratoria, chiamate subito il 118.